Abbiamo provato in passato le ammucchiate tutti contro i cattivi, ammesso e non concesso le pubicca, comincia a perdere il giorno dopo. Quindi di venire insieme, togli una seconda, una seconda, una seconda, una seconda, magari vincite i soldaci, quindi tradotto, per quanto mi riguarda la costruzione di un'Italia e di un'Europa futura, non prevede alfani, giusto per fare noi con noi. Grazie.